Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti anche questa sera all'appuntamento del lunedì sera col benessere e con la salute. Il programma Check-up Obiettivo Salute, giunto alla seconda edizione che realizziamo in collaborazione con Fisioradi Medical Center, la struttura poliambulatoriale molto focalizzata sulla fisioterapia, ma non solo, situata nel quartiere di Bismarra di Pesaro. Questa sera abbiamo un graditissimo ospite che abbiamo già conosciuto l'anno scorso, si tratta di Andrea Buccarini. Andrea Buccarini è biologo, nutrizionista e esperto di alimentazione sportiva e ci darà tantissimi consigli su come nutrire al meglio il nostro organismo per stare bene, non solo nell'attività sportiva, ma veramente nella vita di tutti i giorni. E siamo molto contenti di rincontrare anche quest'anno per il secondo ciclo di Check-up Obiettivo Salute, il dottor Andrea Buccarini, biologo nutrizionista. Ciao a tutti, piacere a voi ritrovarvi. È in perfetta forma fisica, quindi sicuramente applica su se stesso le migliori teorie della nutrizione e lui è particolarmente attento all'aspetto della nutrizione per gli sportivi. Esattamente, sì. Noi tutti ogni giorno sentiamo parlare attraverso i mass media e la pubblicità di quanto sia importante abbinare una corretta alimentazione all'attività fisica, perché queste due azioni possono migliorare il nostro benessere psicofisico e farci raggiungere un peso ideale e anche prevenire alcune malattie che sono particolarmente presenti nella società industrializzate come la nostra, come ad esempio le malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, tumori o osteoporosi o diabete. L'attività fisica abbinata all'alimentazione consente di raggiungere uno stato ideale di benessere, soprattutto nelle persone con più di 50 anni. Questo accade soprattutto perché dopo questa età avvengono gli cambiamenti fisiologici a livello dell'osso, dell'apparato muscolare e del tessuto adiposo, quindi della nostra massa grassa. In particolare, per quanto riguarda l'osso, si assiste a una perdita progressiva delle sostanze minerali e questo può portare ad una condizione chiamata osteopenia e può sfociare in una condizione più grave chiamata osteoporosi e questa accade soprattutto nella donna, mentre sia nell'uomo sia nella donna avviene una progressiva perdita di massa muscolare che può andare dal 3 al 5% ogni 10 anni, ma questo già avviene a partire dai 30 anni e poi si assiste ad un aumento fisiologico della massa grassa, quindi del nostro tessuto adiposo. Sicuramente l'attività fisica e la giusta alimentazione possono rallentare questi processi fisiologici e quindi sta a noi praticare ogni giorno una buona quota di attività fisica e seguire un'alimentazione giusta per tutta la vita, perché il loro effetto preventivo non è da sottovalutare. Ma se dovessimo proprio fare un calcolo, un calcolo così brutale di quanto tempo dedicano all'attività fisica, giornalmente e settimanalmente in realtà dovremmo farla sempre, tutti i giorni. Sì, però secondo le linee guida del Ministero della Salute noi tutti dovremmo praticare 150 minuti di attività fisica a settimana e questo è il quantitativo minimo di tempo necessario affinché ci siano degli effetti positivi sul nostro corpo, però possiamo distribuirla in due modi principali. Il primo è 30 minuti di attività fisica al giorno per 5 volte a settimana a media intensità. L'altro metodo è 3 volte a settimana 30 minuti di attività fisica a media intensità più una volta 30 minuti di attività fisica ad alta intensità. Per quanto riguarda invece gli aspetti positivi dell'attività fisica ritroviamo gli aspetti positivi principali perché ce ne sono tantissimi. Per quanto riguarda i principali ritroviamo una diminuzione del peso corporeo nelle persone affette da sovrappeso o obesità, una diminuzione dei livelli di trigliceridi e di colesterolo nelle persone affette da dislipidemie, una diminuzione della pressione arteriosa nelle persone affette da ipertensione e una diminuzione della glicemia nelle persone affette da diabete. Poi abbiamo anche altri miglioramenti che sono per quanto riguarda la demenza e la prevenzione dello stress e dell'ansia ma abbiamo anche un miglioramento per quanto riguarda il riposo notturno e il tono dell'umore. Chiaramente poi l'attività fisica deve essere anche accoppiata alla giusta assunzione del cibo e ci sono sicuramente dei cibi che è meglio evitare e dei cibi che invece è meglio assumere con continuità. Esattamente, noi tutti ogni giorno dovremo assumere dei cibi di stagione, in particolare una buona quota di frutta e di verdura. Questo perché la stagione arteriale di cibi è importante perché se noi andiamo ad esempio a scegliere le fragole in inverno, queste sicuramente provengono da un paese estero e una volta che hanno fatto tantissimi chilometri con gli autotrasportatori stoccati nei congelatori e frigoriferi, una volta che arrivano nelle nostre tavole avranno meno sostanze nutritive rispetto al prodotto originale. Noi tutti dovremo inoltre assumere una frutta e una verdura di colore diverso ogni giorno perché il colore dei cibi determina delle sostanze nutritive diverse. Un esempio può essere i cibi di colore giallo-arancione che contengono una particolare sostanza chiamata carotenoidi. I carotenoidi hanno la capacità di ridurre il crampio muscolare negli atleti ma anche migliorare l'efficienza del sistema immunitario e del sistema cardiocircolatorio. Mentre ci sono altri cibi di colore verde che contengono altre sostanze che sono chiamate le clorofille. Le clorofille sono in grado di ridurre i livelli di colesterolo LDL nel sangue e prevenire quindi le malattie cardiovascolari. Poi ogni giorno dovremo assumere una buona quota di cereali e pasta integrale. Questo perché questi cibi contengono più vitamine, più sali minerali e più fibre rispetto agli stessi prodotti non integrali. Dovremo poi assumere due volte a settimana latte, latticini e formaggi magri e una buona quota giornaliera di frutta secca che contiene omega 3 e omega 6 che possono proteggersi dalle malattie cardiovascolari. E poi ogni giorno una buona quota di carne, pesce o uova che contengono proteine di elevata qualità che possono supportare la crescita muscolare in chi pratica sport. Per quanto riguarda invece i cibi da utilizzare il meno possibile, ritroviamo i cibi ad alta densità energetica di provenienza industriale, ma anche salumi, quindi merendine, patatine, tutta questa categoria qui, ma anche i salumi grassi come lonza, salame, pancetta, ma anche i dolciumi e l'alcol. Quindi in poche parole il dottor Buccarini ci ha detto che le cose più buone meno si mangiano, o meglio, è una battuta questa, ma si dice spesso che le cose buone fanno male, ma in realtà ci ha detto talmente tanti cibi che sono buoni e che invece sono positivi per il nostro organismo che in realtà ci ha tirato su quindi in quello che si può fare come una dieta sicuramente equilibrata. Poi dottore, quindi è ovvio che se si parla di alimentazione e movimento fisico si parla di due facce della stessa medaglia, della medaglia che si chiama benessere. Esatto, l'alimentazione e l'attività fisica sono complementari, da una parte l'alimentazione ci consente di avere tutti i nutrienti essenziali e l'energia necessaria affrontare nell'attività fisica, dall'altra parte l'attività fisica ci consente di avere un benessere e farci mantenere in salute. Nella società di oggi la durata media della vita si è allungata, questo anche grazie ai progressi della scienza, ma paradossalmente sono peggiorate le condizioni di vita di cui molte persone sono nella loro fase terminale, nella fase più matura della loro vita e questo principalmente secondo gli ultimi dati di ricerca scientifica è dovuto a delle piccole e a volte anche banali cattive abitudini che vengono portate nel tempo, all'inattività fisica e a un'alimentazione scorretta. Infine possiamo dire che l'esercizio fisico può creare un deficit calorico in grado di farci raggiungere e mantenere un peso ideale e dall'altra parte anche correggere un'alimentazione sbagliata che è troppo ricca di calorie. Dottor Buccarini concludiamo con un simpatico aneddoto perché lei prima ha detto che soprattutto dai 50 anni in su bisogna stare particolarmente attenti, fare movimento eccetera, si diventa maturi. Noi abbiamo un nostro collaboratore di Rossini TV che tutti voi conoscete, lo vedete spessissimo nei nostri canali, che si chiama Paolo Pagnini e Paolo Pagnini ha seguito un ben preciso programma di nutrizione attraverso di lei e quindi se lo vedete così magrolino, così figurino, noi lo vediamo in palestra a darsi da fare, ecco c'è un segreto, lui sta attuando perfettamente ciò che il dottor Buccarini ci ha spiegato. Esattamente sì, Paolo è stato, è uno dei miei pazienti migliori. Comunque lo seguo da un paio di mesi ma dagli ottimi risultati li ha ottenuti quindi si vede che sta facendo le cose seriamente e segue quello che dico io. Come sempre, Paolo Pagnini non vi sveliamo l'età, non vi diciamo se 30, 50, chissà quanti ma lo possiamo immaginare, ma veramente Paolo Pagnini un esempio di dedizione perché davvero ha capito l'importanza del benessere. Dottor Buccarini, grazie. Grazie a voi. Buona serata a tutti, grazie per averci seguito, ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a tutti.